E perché non può funzionare il nostro mondo nel mondo spirituale? Non sono in grado, dice l'amico. Che non è successo è una cosa, ma il mondo spirituale funziona come il nostro mondo, però lì è bisogno dell'adazione invece della ricezione. E quindi quando tu inizi, nel sistema Artin del gruppo, e nel gruppo c'è l'arvuto reciproco e porti la connessione, e crei questa rete, con correzioni nella connessione stessa, tu scopri un nuovo livello, anche la vita che è eterna, la vita completa arriverà a scoprire. Quindi un nuovo orizzonte ti si apre, è l'orizzonte della tua esistenza. E tramite questo, come nel nostro mondo, quando una persona riceve dai suoi genitori, e poi dall'insegnante prende la conoscenza, l'informazione, come mettere in pratica tutto questo per sostenersi in questo mondo, lo stesso succede nel mondo spirituale. È un gruppo, è l'insegnante, è la forza superiore, e tu scopri tante forze, non solo una, e tutte queste operano in te, e tu senti come ti insegnano tutte queste. Così tu fai in tal modo, puoi fai in un altro. Queste forze ti guideranno e ti spiegheranno tutto. Non devi essere intelligente, non devi inventarti niente con l'intelletto che hai adesso, perché non funzionerà lì nella spiritualità.